Con l'orgoglio ancora ferito e la voglia di salutare nel migliore dei modi la Serie AON 2022, Catania Beach Soccer e Deppi Car San Benedettese si affrontano per la finale di consolazione che segna il quinto posto. Etnei orfani di Gabriele Gori assente per squalifica ma insignito del titolo di capo cannoniere per la sesta volta in carriera, altro riconoscimento individuale che nobilita la carriera del 10 via Regino. Ma passiamo al film della partita che al secondo minuto vive il primo sussulto con la conclusione di Emanuele Zurlo, abile a coordinarsi e a calciare il pallone sulla traversa. Catania in palla, al terzo minuto Antonio prende la mira, attento Chiodi. Partita che si gioca su temperature altissime, su di una sabbia rovente e che per qualche minuto non rende possibile il proseguo della partita. Al rientro, quando scocca il minuto 4, il piede caldo è di Philippe Borer, lunga gittata di Antonio per il destro dello Svizzero che si insacca all'angolino alla destra di Chiodi. Samb che prova immediatamente la replica, destro di Eudin, paterniti vola sul suo palo destro. Samb che concretizza la sua pericolosità con Brando che al volo su assist di Eudin fulmina paterniti sul primo palo rimettendo i conti a posto. La partita viene costantemente frammentata, non tantissime le emozioni ma poco più di due minuti dalla fine del primo tempo. Un fallo di miceli su Zurlo determina il piazzato che viene eseguito magistralmente dal 9 rossazzurro alla destra di Chiodi. Catania avanti a conclusione dei primi 12 effettivi e che allunga inizio ripresa complice una disattenzione macroscopica di Haddari che in alleggerimento difensivo sorprende persino Costa. Timide proteste, nessun dubbio per l'arbitro numero uno Romani di Modena che assegna il gol del 3-1. Samb punta nell'orgoglio e sempre in partita. Brando scappa ad Ozu e castiga la retroguardia rossa-azzurra ristabilendo il meno uno che tiene il match sui binari dell'equilibrio. Al quinto minuto l'allungo del Catania. Samb vicinissimo al gol del pareggio con il palo di Mascaro. Ripartenza letale, rifinita da Antonio che mira al palo lungo e batte Costa per il gol del 4-2. Catania che allunga il settimo minuto con la giocata del suo portiere volante. Alessio, battini, galoppa, palla al piede, controllo elegante e conclusione chirurgica. All'angolino vincente la cinquina è servita. Partita in discesa non per la San Benedettese che ritorna a farsi sotto un minuto dopo con Miceli che chiude una bella azione corale. Secondo tempo che va agli archivi sul parziale di 5-3 in favore del Catania. Nella terza ed ultima frazione di gioco Samb che dopo appena 50 secondi entra senza chiedere permesso con Mascaro la cui conclusione vincente vale il 5-4. Marchigiani che fiutano il colpo, zampata di Eudin, paterniti con un colpo di Reni finale, si salva con l'ausilio della traversa. La partita si stagna, latitano le palle gole a farle da padrone il caldo e due ultime parate decisive operata da Battini sulle conclusioni di Eudin e sulla rovesciata di Brando. Al triplice fischio di chiusura il Catania saluta la vittoria numero 13 della stagione e un quinto posto in classifica che vale poco più di una consolazione stante agli obiettivi di inizio stagione. Presto per indirizzare nuovi obiettivi e futuri programmi con la rivederci agli amanti del beach soccer sicuri che il Catania vorrà centrare un riscatto e la voglia di consolidarsi la società più titolata in Italia.